Stiamo semplicemente aspettando la risposta dell'INAIL e dell'INPS come da procedura, così il sindaco di San Nicolarcella, Barbara Mele, al consigliere di minoranza Domenico Rosso sulla vicenda del pagamento degli arretrati agli ex dipendenti della mia SRL. Nessun ritardo ha detto la Mele, capiamo i disagi ma non possiamo scavalcare la legge. Abbiamo presentato regolare interrogazione ad INPS e INAIL di rilascio del DURC, ossia la regolarità contributiva dell'azienda. Il consigliere Rosso dovrebbe conoscere bene questa procedura. La vicenda riguarda otto ex dipendenti della mia SRL e la società che ha gestito sino a fine aprile la raccolta rifiuti a San Nicolarcella. Il servizio è stato affidato temporaneamente alla Calabra Maceri, decisione presa dall'ente per le inadempienze contrattuali della ditta. Il comune di San Nicolarcella, vista la situazione dei dipendenti che operavano nella raccolta dei rifiuti, ha deliberato un accordo con la ditta per la regolarizzazione del pagamento degli stipendi arretrati per un totale di 45.000 euro. Abbiamo preso questo impegno, ha detto il vice sindaco di San Nicolarcella Eugenio Madeo, nonostante non fosse nostra competenza, visto che l'inadempienza dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti non rientra tra le nostre prerogative.